Salve a tutti, sono Filippo Abis, tecnico Opera Company. In questa presentazione vi mostreremo il nostro prodotto Sprint Label. Sprint Label è il prodotto dedicato al taglio, rivolto alle aziende che realizzano serramenti in alluminio, PVC e alluminio legno. Si installa a fianco alla troncatrice. I principali vantaggi sono velocizzazione del taglio, eliminazione degli errori, eliminazione delle distinte cartacce, gestione del magazzino spezzoni. È composta da un PC, una stampante e un lettore di codice a barre. L'assistente di taglio è il programma che guida l'operatore nelle fasi di taglio. Visualizza l'ottimizzazione evitando l'utilizzo di stampe cartacce. Comunica direttamente alla troncatrice la misura di taglio, prevenendo gli errori di inserimento manuale delle quote in troncatrice. stampa un'etichetta personalizzata per ogni pezzo, permettendo l'identificazione nelle fasi successive di produzione. Le commesse create in ufficio tramite il programma Opera vengono ricevute automaticamente dalla Sprint Label e presentate a video. Sprint Label comunica con l'operatore tramite lo schermo touchscreen, presentando a video sempre la stessa interfaccia. Nella parte di sinistra abbiamo la lista dei profili che dovranno essere tagliati. Nella parte centrale viene visualizzata l'ottimizzazione delle barre. È possibile lavorare sia in modalità automatica che in modalità semi-automatica. In quest'ultimo caso i singoli tagli possono essere scelti dall'operatore con un tocco sul touchscreen. Oltre alle barre intere, l'ottimizzazione può mostrare i tagli ottenuti riutilizzando gli spezzoni. Sprint Label gestisce automaticamente gli stridi di lavorazione, stampando un'etichetta che identifica lo spezzone nel momento in cui viene ottenuto. Questa etichetta contiene un codice a barre che ne facilita il riconoscimento per un successivo riutilizzo. Nel riquadro in alto è presente la barra di scelta della commessa da tagliare e la barra di selezione dell'operatore. In fase di selezione verrà mostrata la lista delle commesse trasmesse dall'ufficio e l'anteprima delle tipologie. Ogni volta che viene selezionato un pezzo vengono mostrati gli angoli di taglio e la lunghezza. Viene anche mostrata l'etichetta grafica che contiene il disegno della tipologia con evidenziato il lato di montaggio del pezzo. La Sprint Label si collega alle troncatrici a controllo numerico. Trasmette i dati del taglio da eseguire, visualizzandoli automaticamente sull'interfaccia della macchina, evitando l'inserimento manuale dell'operatore. A taglio eseguito, l'etichetta verrà stampata automaticamente. Se siete in possesso di una troncatrice monotesta manuale, è possibile applicarvi una rugliera elettronica che verrà posizionata automaticamente dalla Sprint Label. Come vedete in questo filmato, il controllo della rugliera riceve dalla Sprint Label la misura. L'operatore preme il tasto verde e la battuta elettronica si posiziona alla quota di taglio indicata. Questa soluzione permette di automatizzare il taglio senza dover sostituire la troncatrice. Abbiamo la possibilità di stampare etichette grafiche personalizzabili che aiutano a identificare il pezzo di riferimento alla commessa di appartenenza. Inoltre è possibile stampare il codice a barre per il centro di lavoro, l'anteprima del serramento e i dati relativi alla ferramenta o alle lavorazioni manuali che il pezzo dovrà subire. Per ogni commessa sarà possibile monitorare i tempi di produzione attraverso Opera Timing. Dal programma in ufficio sarà possibile controllare in tempo reale lo stato di avanzamento del taglio tramite una barra percentuale. Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei singoli componenti della Sprint Label. Il computer fornito è ottimizzato per l'impiego nelle officine serramentistiche, realizzato con una struttura in metallo resistente agli urti e ai graffi. Grazie al suo touchscreen l'operatore ha sempre a portata di mano tutte le funzioni e non ha bisogno di mouse e tastiera. Inoltre si tratta di un dispositivo fanless, ovvero non necessita di ventoli di raffreddamento. In questo modo si limitano i problemi derivanti dall'accumulo di polveri sottili all'interno. La stampante è anch'essa costruita con materiali resistenti agli urti e ai graffi. È dotata di spellicolatore e di un sensore di prelievo etichetta, che velocizzano l'applicazione dell'etichetta stessa al pezzo appena tagliato. Infine è presente un lettore di codice a barre con o senza cavo, che consente una veloce identificazione degli ispezioni da riutilizzare e dei pesi già tagliati. Tantissime officine hanno scelto Sprint Label come sistema di supporto al taglio, con diverse configurazioni. La troncatrice a doppia testa e le rulliere elettroniche vengono collegate tramite floppy disk, cavo seriale o di rete. Tutte le troncatrici a controllo numerico possono essere collegate al sistema Sprint Label. Visitate il sito www.company.com Nella sezione CNDriver troverete l'elenco di tutte le marche e i modelli delle troncatrici collegabili con Opera. Vi ricordiamo che Opera può essere collegato anche a centri di lavoro, saldatrici per il pvc e i magazzini automatici di tutte le principali marche in commercio. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione. A nome di tutto lo staff di Opera Company vi ringrazio per l'attenzione.